eccoci tornati su un nuovo video e oggi finalmente riusciamo a parlare della nuova collezione di naruto shibuta kakashi che è uno con sasuke di uno dei miei personaggi preferiti questo è il tipo il fascicolo di kakashi che è molto figo con i suoi campanellini andiamo a vedere un po il dentro com'è che parla comunque la solita storia kakashi il ninja coppia tor e comunque le sue varie storie con gli altri personaggi con cui è più legato i raijiki rai kiri il taglio del fulmine che l'ha insegnato a sasuke e il suo sharingan di kakashi che è stato donato dal suo amico che anche qua è molto figo il poster di kakashi molto figo anch'esso andiamo avanti con comunque con il ancora la pare storia di kakashi che a me piace tanto e poi qua attivarsi i tipi di ninja che la conclusione di questo fascicolo di kakashi che è poi il prossimo giro ci abbiamo orochimaru sempre 6 diciamo in tempo rispetto al calendario che ho trovato su internet perché questo è uscito il 3 ottobre ed è uscito il 13 10 giorni dopo passiamo alla statunina di kakashi spero che questa inquadrattura vi piaccia scusate un po il computer però è questa la camera l'unica cosa è bella perché comunque non c'è tutto quel super copertone che c'era prima mi è andato in questa busta qua trasparente e si vede che l'hanno scollato perché comunque dietro si vede che c'era prima il cartone avranno avuto dei problemi tecnici spero che la statunina almeno non ci sia fatta diciamo niente di male andiamo a scopicchiare e comunque abbiamo la solita pedalina con scritto sotto kakashi che uno lo può tirar via come non lo può tirar via e quello devo dire ok figatissimo cioè ok è veramente veramente figa c'è delle sbavature e comunque per 11 euro scritto qua vedete però comunque per il resto cioè è diciamo è fatta abbastanza bene dai perché comunque è costata comunque così si vede dall'alto comunque è costata lo vedete sia da questa telecamera qua che questa qua però se lo faccio vedere così lo vedete meglio comunque questo è comunque kakashi e spero che il video fatto così vi piaccia così da non stare a cambiare sempre in quadratura ditemi voi nei commenti cerchiamo di sostenere questa serie e niente ci vediamo al prossimo appuntamento balla allora 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 allora